2 contro 2, io e Simo contro Fere e Nat Simo in effetti non so che ti viene, Simo è con io ed Eni Allora funziona così, ognuno dovrà difendere un lama Questo qua è il nostro lama, mentre il loro è lì, ve lo faccio vedere col fucile e col mirino Esattamente là Funziona in questo modo, l'obiettivo è distruggere il lama avversario Chi distrugge per prima il lama avversario ovviamente vince Le regole però sono, avremo soltanto 3 minuti per billare intorno al lama per difenderlo Dopodiché potremo utilizzare tutte le armi del mondo Ma non potremo né curarci né utilizzare quanti materiali vorremmo Infatti ne avremo soltanto 200 E dovremo in questo modo cercare di andare a distruggere con gli avversari Non possiamo rubare loot di chi amazziamo E quando si muore si può tornare in vita e continuare Sul proprio loot Sul proprio loot Ok, perfetto Allora, avvio i 3 minuti di billing 3, 2, 1, via Allora io mi fido di Nat Perché è bravo a costruire, quindi Guarda quanto è veloce Tu hai vita di farti chiudere lì Bellissimo Ok Ti lascio comunque altri mattoni se poi serviranno Non so bene che cavolo fare A livello di costruzione Perché non va? Ok Bisogna farli impazzire, così non lo capisco Anche secondo me Anche noi dobbiamo nascondere bene Tieni altri mattoni qua E altri, altro metallo No, non ti flippare gioco Ok Riesci a salire? Poi spacchi tutto? Sì, 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 sì Da qui Non abbiamo scelto un posto molto comodo io e te, caro Io mi sto basando sull'altezza, sinceramente Così il ferro può ammazzare tutti direttamente Infatti Allora, mi faccio la scala Poi boh, se riesco a distruggerla bene Se no fa tempo Ok Te la distruggo io? Ok, vai È passato un minuto Ok, ci siamo, ci siamo Ok Qua riesco a distruggerla io Ok Così a posto Tanto poi vabbè Non riesce a salirci nessuno Allora, l'unica cosa è sto albero Un po' in mezzo Posso distruggerci l'albero? Sì, vero? Sì, sì, certo Dai Ok Perché l'ha davvero, davvero in mezzo Non tutti che così li uso Per tipo coprirmi Mentre lo mi sparo No, infatti, infatti, infatti Solo questo qui di fronte Perché era davvero proprio Nella visuale dritta Guarda che stanno a fa' loro Tutti in metallo Sì, io faccio una tipo Un tripromuetto qua Ok Io l'ho finito in metà lo staff Quindi non ti posso dare una mano Ok Non vorrei farlo in legno io Ma che ci vedi Perché è troppo poco resistente Va bene, no? Vabbè, continuo in legno Vado sotto a controllare Perché abbiamo ancora un minuto, raga Ok Eh, purtroppo ci avanza solo quello Non avevo tutti i materiali a mille Non avevo tutto il mattone Tutto il ferro Quindi abbiamo finito Che fatica Che palle Ok Come sta andando? A noi? Eh, a te, certo Ma Io volevo costruire lì La base enorme Due mila di strati Sì, loro c'hanno materiali infiniti, sembra È perché io Mentre lutavamo i cinque minuti Ho preso materiali Eh, vabbè Pure io ci ho provato Ma non ce li avevo tutti Tutti, tutti Se prendiamo è solo per i materiali Ma senti Che non ne avevamo Le sto facendo tutto in legno Opla 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 Almeno sono scuse valide Dai Ok Vabbè, tanto poi c'è anche da dire Che non abbiamo niente L'abbiamo specificato Non abbiamo niente Per distruggere facilmente le strutture Come gli esplosivi I minigam Non abbiamo nulla Perché non è una bella sfida di skill di sparare Eh sì Io a distanza faccio schifo Quindi o mi avvicino O mi avvicino Opla 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 Qua sotto sto facendo un labirinto Non ci capiranno nulla Fida di me Meglio Questo secondo me può soltanto dare problemi Cioè dovremmo anche scendere Allora stop 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 Fermatevi così No Dobbiamo tenerci 200 giusto? Sì, esatto Buttate tutti i materiali Dovete avere soltanto 200 Aspetta che vado a prenderli allora Ne potrete prendere altri 200 Soltanto ogni volta che morite Quindi insomma dovete avere Sempre un massimo di 200 Allora Salgo per dateli O ce li hai? No ce li ho, ce li ho, ce li Sto buttando quelli che non mi servono Io li devo prendere Ok Ok sono 200 Ah perché faccio così? Se do un colpo di questo Quanto? 16 me lo devo ottenere Allora ne devo buttare altri 50 Ok ok forse rischi di buttare le mie cose No no Ho fatto tipo il doppio strato Ti devo far risalire Ah già Ok va bene Anzi mi sa che rimango io a difendere Lo sai? Allora si vede bene Però è grande la loro base Cioè davvero enorme Non so se riuscirò a beccarli Quindi probabilmente Abbiamo costruito Aspetta, aspetta Cioè hanno fatto una base enormissima No Che stai combinando? Vai sali L'avete fatta? Sì Allora Tra poco vi do il via 150 più 90 No non ci sono minimamente Perché ti incasina? Perché tu vuoi Vabbè ce l'ho fatta Basta non mi devo lamentare Ciao Ok Allora ci siamo? Sì Pronti? Sì Vuoi avere dei cecchini? Più o meno Io non Io non ne ho Pronti? Alla fine sono rimasta così 3 2 1 Via Ti ha colpito Steph Ti vedo Intanto pure lui Vieni Maledetto Headshot Ok Non so se è meglio attaccare in due Opo Non lo so Cavolo Sì ma sai dov'è? È difficilissimo Questa roba Ce l'hai fatta? O sei dentro? Aspetta ti proteggo Cavolo Sono tutti dentro Sono tutti dentro Devi fare tu No 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 Io non li vedo No cavolo No Ma chi c'è qui sotto? Allora c'è Steph devo riprendermi tutto Sì E ti devi allontanare un po' C'è il moz che sta facendo di nuovo il ninja Ed è dietro un albero Vai Simo Come ve lo c'è adesso Guarda il sopra Steph come si è messo Fai? No Cavolo È caduto bella fe? Ho venti di vita Pensate ad andare giù Simo Pensate ad andare giù Non devi ammazzare lei Lo so Ciao Steph Non mi ammazzare Ok Dimmi quando sei andato via No Ci ho venti di vita Continua a bucare Continua a bucare Simo Oddio il labirinto qua dentro Nati e si vuoi ti faccio andare fino alla base senza sparare Ok Perché tanto so che vuoi difendere al momento Distrutto Quasi distrutto Distrutto Distruttolama? Sì Davvero? Sì Grande Steph quanto vicino ci sono andato Steph? Sai che non ho l'idea Nati? Io non sapevo dove era il nostro lama Vieni a vedere Sono curioso Io non so dove eri E non so dove era il lama Quindi ho avuto paura Però poi non so dove eri Allora tu eri qua Sì E stavi bucando questo Aspetta va Che io posso farlo Almeno facciamo prima Questo non riesco a modificarlo Perché è tutto incalanato Ok Ok voglio venire a vedere Dov'è? Ci sentiamo Ma raga non trovo il lama Ve lo giuro Eccolo E' qua vicino perché sento rumore Eccolo Cioè dov'è? Qui Ok Ne mancava? Io ti voglio andare un pochettino più in qua Cioè io ho iniziato qua no? Sì qua Facevo un pochettino più in là Fai vedere? Tipo da qui Esatto Aspetta sto volendo vedere Forse era qua? Beh non mancava molto Era qua 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 Davvero? Sì Sì sento la scuola Sì non mancava molto Non mi mancava da niente molto Perché non mi dà questo modifai? Gioco schifoso Ah Piscato Qui a destra? Sì qua Hai fatto Eccolo Sarebbe stato un complicato Però non mancava troppo Mi mancava da distrugge Le tre strutture E poi hanno attaccato in due Quindi era difficile Capite? Allora cosa possiamo fare Al volissimo Per concludere A parte lui che fa il vigliacco Aveva lo scuola Aveva lo scuola E anche il p90 Guarda cosa tutto aveva Io ero una poveraccia Ma ti sembra? Ho preso tutte le macchinette Porca miseria Guarda perché abbiamo perso Guarda cosa aveva Nat E Ferre rompeva da lì in altissima Eh infatti era quella La tecnica Infatti c'ero vicino Io ho puntato Soprattutto alle gannate in pulso Infatti mi sono avvicinato un botto Hai fatto bene No la tattica era buona Perché non riuscivo A stare focussato su di te Ci siamo giocati tutti bene Dai Nat È schifo Stai fermo Oh calmi Valedetto No Pensavo si più E ti prego Vuoi fuggire col mino Cosa? Ah no Lasciò lì Vabbè dai Comunque Ci fermiamo Suida con lama interessante Magari la rifacciamo Un'altra volta in futuro Però forse Potrebbe rifare È molto delicato un lama Da difendere è proprio difficile È proprio una roba Davvero complicata Una volta che ci sei lo rompi Capito? Una volta che ci sei lo rompi Bisogna tipo crearsi un labirinto Ci starebbe Eh perché noi l'abbiamo fatto Però L'abbiamo dovuto fare con legno Beh tre minuti erano pochi Tre minuti erano pochi Tre minuti erano pochi Dimmi Qua? Se vieni qua sotto Aspetta Cosa stanno studiando adesso? Fatemi capire È meglio studiarsi i piani Cioè No dai più in là Vieni Cosa state facendo? Non lo so Guarda qua È a stravuoto Non avevo più tempo per costruire io Capito? Sì 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 Eh ma intanto io ho buccato da sopra Con il p90 Vabbè ripeto magari C'è il p90 Forse secondo me cinque minuti Capito? Cinque minutini Ci fa stare Forse anche for sei E si fa un bel labirinto E si fa Forse una protezione un po' più Ci sta Un po' più sicura Vabbè in ogni caso Ci fermiamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto Come sempre qua sotto Compareranno altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao